E parliamo del Museo del Liviano. Mi restano, a Dio piacendo, dieci anni di insegnamento. Vorrei lasciare al mio successore questo lavoro compiuto e possibilmente goderne io stesso per qualche anno. Questa affermazione, queste poche righe, chiudono un documento, una memoria al magnifico rettore, redatta da Antin e dopo guerra, presumibilmente tra il 49 e il 50. In archivio del Museo abbiamo un documento, la parte manoscritta, ma non datata. Questo documento appunto dà un po' il quadro della situazione del Museo Universitario e delinea un po' quello che è il programma per il suo completamento. Stiamo parlando del Museo dell'Istituto di Archeologia che inizia la sua storia nel nuovo allestimento e nella nuova collocazione nell'ambito del secondo consorzio per la costruzione del Palazzo della Facoltà di Lettere in Piazza Capitaniato, il consorzio che è stato appena ricordato dalla dottoressa Colpo, nel quale è inserito anche il progetto per la Gipsoteca Museo. E nel secondo consorzio, di cui appunto il professor Antti come rettore è presidente, ovviamente viene nel programma istituito, viene spiegato questa indicazione di massima. Alla Gipsoteca Museo sarà possibilmente riservato l'intero ultimo piano dell'edificio che dovrà essere illuminato dall'alto e servito da apposito ascensore montacarichi adatto al trasporto di grandi casse. Al piano del museo dovrà essere ricavata una terrazza per fotografie all'aperto. La struttura della Gipsoteca Museo dovrà essere studiata in modo da permettere piena libertà di ripartizione dello spazio disponibile in relazione alle esigenze del materiale. Solo le aule, il museo e i maggiori ambienti in comune hanno bisogno di soffitti relativamente alti. Negli istituti invece ci si dovrà tenere alle altezze normali. Queste indicazioni, appunto, nell'ambito del progetto fanno osservare un paio di cose. Intanto, appunto, che si parla di un progetto unitario nella quale è inserito anche il museo ed è, per usare le parole del Consiglio di Facoltà del 5 luglio del 34, il progetto al momento il migliore possibile, mancando la possibilità, viene osservato, di una sede propria per il museo e non essendovi le risorse, per un ulteriore piano del Liviano, quindi un'ulteriore elevazione, che potesse riunire tutta la facoltà. In quel momento, poi abbiamo sentito nel 43 i piani erano diversi, rimaneva quindi la realtà che la facoltà di lettere fosse di fatto destinata a collocarsi su più sedi. In questa fase, a bando chiuso e a progetti oramai classificati con un vincitore già espresso, il progetto con il moto AFD dello studio Ponti Fornaroli, in realtà ci sono ancora delle perplessità nell'ambito della stessa commissione del Consorzio, in quanto un consigliere nella seduta del 30 luglio del 34 ribadisce, a suo parere, l'inutilità di costruire per l'Istituto di Archeologia un museo archeologico, che non rienterebbe nei fini e competenze del Consorzio, al che Antti, seccamente, chiude la questione affermando che l'università abbia bisogno o meno di musei, è cosa che non può neppure essere discursa. E in effetti il patrimonio notevole di collezioni di musei dell'Università di Padova era ed è una realtà incontrovertibile, già all'epoca consistente per rilevanze all'alta antichità, risalente al nucleo della collezione Valisneri, donata in una donazione Valisneri della Musea Valisneriana del 1733. Qui vediamo il distacco che nel 1805 diede vita al gabinetto di numismatica come raccolta a sé stante distinta dai rimanenti nuclei valisneriani e che poi nel corso del tempo si era ulteriormente ampliato fino ad acquistare soprattutto sotto Ghirardini e più avanti Pellegrini consistenza di un vero e proprio museo didattico. Adesso contribuivano una serie di collezioni che sempre nel documento del dopoguerra Antti enumera brevemente. Prima di tutto qui la vediamo già in una ricostruzione che è stata fatta in anni recenti. Il primo nucleo che è proveniente dal gabinetto di cose d'arte e curiosità varie è formato da Marco Mantua Benavides, professore di diritto a Padova nel suo palazzo di Piazza Eremitani, sto leggendo il documento di Antti, poi Corinaldi, nel secolo XVI, incorporato nel secolo XVIII nel museo di Antonio Valisneri dal figlio di questo donato alla nostra università. Dice Antti, il materiale di questo museo, esposto in origine all'attuale sala di laurea della Facoltà di Scienze, fu suddiviso nel secolo scorso fra gli istituti di geologia, mineralogia e zoologia, restando il materiale antico assegnato al gabinetto in numismatica, predecessore dell'attuale istituto di archeologia. Ne fanno parte oggetti non di grandi proporzioni, ma spesso di altissimo valore per pregio artistico o per interesse antiquario. Basti dire che, come nelle contemporanee collezioni veneziane dei Grimani, Giustiniani e dei Nani, ricordiamo appunto l'impegno di Antti nell'allestimento del Museo archeologico di Venezia, quindi anche la grande conoscenza del professore di questa realtà del Museo di Scultura di Venezia, vi prevalgono le sculture originali greche, quindi questo ulteriore valore aggiunto. Ai saggi di arte antica poi aggiunge greca-romane, si aggiungono poi singolarissime opere d'arte medievale rinascimentale, tra le quali sculture Donatello di Sensovino e numerose della Mannati. Poi elenca un secondo nucleo, nel quale ha parte anche diretta, in quanto riuscì proprio a, nei suoi primi anni di direzione del Museo, a farlo proprio e a depositarlo presso il Museo. Il secondo nucleo di materiale dell'Istituto proviene dalla collezione formata nel secolo scorso da Neumann, acquistata, e qui c'è una lacuna nel documento, dalla nostra Università, e suddivisa allora per gli istituti di geologia, antropologia e archeologia. Il materiale archeologico messo insieme dal Neumann è molto iterogeneo, di solito di scarso valore, e misto anche di oggetti moderni di nessun conto. Poche sculture, molti vasi, molti oggettini di varie antichità, e una discreta collezione di veti romani. Vediamo, qui abbiamo poi, ne parleremo dell'Ipsoteca, vediamo gli oggettini e gli oggetti della collezione Neumann. Anche se non paragonabile al valore d'arte come le sculture Benavides, questo materiale, fra il quale non mancano alcuni pezzi importanti, è tuttavia prezioso in sede didattica, perché si presta in modo egregio ad addestrare i giovani alla conoscenza del materiale antico e delle rispettive tecniche. Questa attenzione all'aspetto formativo e didattico è proprio l'elemento caratterizzante nell'ideazione e nell'ampliamento del museo, un elemento che poi seguirà tutta l'attività di anti rispetto al museo. Ai due nuclei principali si aggiungono pochi altri monumenti, tra cui un certo numero di calchi in gesso e sculture antiche che vediamo qui, e qui c'è anche un ampliamento e un collegamento con il museo archeologico di Venezia, è stato accennato ieri dal professore Safavaretto, in quanto alcune lastre, vediamo anche qui il rilievo votivo ad Eracle, sono copie di gessi che procurano antiche proprio in fase di progettazione e allestimento di quel museo per il suo museo didattico. Conclude, si tratta dunque di un complesso di primordine per grande valore storico-artistico e di interesse didattico. A questo anti aggiungerà proprio negli anni della progettazione del museo tutta una serie di altri elementi ritrovati negli scavi dei complessi universitari, soprattutto nell'area del BO, come vediamo qua, e anche alcuni elementi provenienti da scavo, i quali nella memoria troviamo anche con interesse e anche un po' con sorpresa già elencati come materiali con dignità di esposizione nel museo e si fa riferimento ai documenti e movimenti provenienti dagli scavi in Egitto dello scrivente Papiri e Smalti. Qui vediamo un'altra lastra proveniente dal Museo archeologico di Venezia, un altro calco. Questa esperienza precedente colloca appunto come continuatore dell'opera dei suoi predecessori Ghirardini e Pellegrini nell'ampiamento anche della sezione didattica della Gipsoteca, ricordando però che rispetto a Pellegrini e a Ghirardini prima, anche la sua posizione e le sue possibilità di interagire con il territorio vengono in quel momento anche cambiate, mutate, anche dalla legislazione dopo del 23 si ha un momento di cambio, per cui non c'è l'incompatibilità che è stata citata ieri tra quella che era la carriera universitaria e i ruoli delle soprintendenze, quindi anche una diversa capacità di interagire con il territorio che comunque viene sempre mantenuta nel limite del possibile dal professore. Nelle altre esperienze precedenti, diciamo di quelli che erano i suoi interventi, ieri sono stati citati anche la professoressa Favaretto delle metodologie di schede, di raccolta dei dati rispetto all'allestimento del museo. Mi piace qui ricordare anche un recente rinvenimento archivistico di cui poi parlerà in esteso la professoressa Zanovello che è relativo a un altro progetto che poi non ebbe alla luce per un museo a Bengasi e anche qui ritroviamo una serie di documenti e un po' il modo di lavoro, le buste degli appunti, le schede e le fotografie e un abbozzo di catalogo che non ebbe mai seguito. Ma torniamo al nostro museo, un laboratorio di studio e di formazione ad estrarre i giovani alla conoscenza del materiale antico e delle rispettive tecniche. lo abbiamo già sentito ed è quello che appunto più volte ribadisce anti. Ribadisce anche un'altra situazione, il cosiddetto museo archeologico, una collezione di puro carattere didattico e non un museo per il pubblico. Bene, però qui abbiamo nel passo successivo nella relazione accompagnatoria del vincitore lo studio dell'architetto Ponti per il progetto dell'Iviano nel 1934 un primo step di configurazione del progetto esecutivo nel quale vediamo però un aspetto molto interessante non solo la descrizione generale che abbiamo visto nel programma ma si va a concretizzare quello che dovrà essere proprio la forma del museo e leggiamolo insieme e poi ne ragioneremo un po' sopra. La configurazione del museo al quale si accede da due scale e sua parte illuminato da un lucernario presso la scala poi segue una zona ascez infine una luce rompe attraverso un impluvio aperto sulla sinistra. Tutto ciò forma canocchiale sull'asse longitudinale ed un diaframma concavo che è sulla terrazza per le fotografie e può servire anche da sfondo ad esse ed è quello alla vostra sinistra dove c'è l'emiciclo con il segno delle scalette in salita verso la terrazza. Costituisce questo diaframma concavo il fondo della veduta assiale del museo. Se voi osservate vedete che proprio la differente lunghezza degli schets dà proprio l'idea anche visiva di un cono che va a concentrare il vostro punto di vista dalla scala a chiocciola sulla destra fino appunto al fondo della veduta assiale che è appunto questo grande emiciclo sulla sinistra. A questo punto ci si domanda questa, nell'interpretazione di Ponti quindi questo spazio del museo didattico diventa un qualcosa di un attimo di più acquista un aspetto anche legato a un'ambientazione diventa un qualcosa di più di un semplice laboratorio didattico va a ricreare ambienti, a ricreare atmosfere a ricreare un po' un'atmosfera generale che Maltanezzo nel volume del 2008 molte volte spesso qui citato va a definire come ricostruzione dell'ambiente antico specialmente la Domus come quell'ambiente di ozio dell'ozium antico dello studioso circondato dall'arte dalle bellezze delle sculture, dei libri del suo corredo di studio quindi si va a configurare nel rapporto tra progettista e diciamo il committente quello che è un'ambientazione che va molto al di là e diciamo un'idea di museo che va molto molto al di là di quello che è un semplice spazio didattico pur vedendo e osservando in questo spazio tutta una serie di apprestamenti moderni funzionali a quello che è l'insegnamento e a quella che è la didattica dell'archeologia quindi grande attenzione anche nella costruzione del modiglio che poi non verrà effettivamente realizzato ma nella sua progettazione all'aspetto pratico e questo già Martanezzo l'aveva l'aveva sottolineato ma d'altra parte anche questa forma museo che appunto fa spiccare questo progetto nell'ambito appunto della museografia italiana del tempo ne fa un unicum e ne costituisce quello che oggi noi potremmo anche definire dal punto di vista moderno come ne fa proprio un museo macchina del tempo che ambienta queste collezioni e che le raccoglie e da loro un percorso come quello che appunto poi Antti ci proporrà e vorrà proporre per il suo museo che troviamo in questi documenti poi postumi successivi che abbiamo letto all'inizio ma che al momento appunto non si ritrova per documenti corevi in documenti corevi al progetto e le vicende dell'allestimento sono molto lunghe e occupano uno spazio cronologico molto ampio dall'inizio dalle fasi del secondo concorso fino alla fine del mandato di Antti fino al suo pensionamento e si possono suddivise per comodità e per non annoiarvi in due momenti una parte di costruzione quindi la parte della forma museo e poi la disposizione delle collezioni nel dopoguerra la documentazione alla quale faccio riferimento è quella che è stata per lo meno nell'intervento che mi ha preceduto citata ampiamente dell'archivio centrale dell'Ateneo al quale si aggiungono anche documenti dell'archivio storico del museo nella parte della cartella allestimenti e anche fa parte integrante di quello che possiamo di ragionamenti di quello che possiamo inferire sul museo anche tutto quando è emerso del restauro della sede museale che è stato eseguito tra il 99 e il 2008 e ho pensato di proporvi per la prima parte una rapida carrellata proprio per non annoiare riportando quello che è la corrispondenza tra ponti e anti questo rapporto che si era oramai consolidato come abbiamo visto anche nella relazione che abbiamo sentito nella relazione precedente fra anti e ponti si era oramai consolidato e stabilito ed è continuamente presente in filigrana in tutto l'allestimento lo vediamo rapidamente in alcune slide proprio nelle varie fasi di allestimento qui vediamo l'ingresso la scala principale a chiocciola per chiudere la grande chiocciola e poi da una serie di indicazioni che vedete tenete conto i colori fondo pompeiano questo è il grande lucernario che illumina la scala che abbiamo visto e letto nel progetto questo interviene c'è un intervento di anti sull'illuminazione dall'alto di questa zona su questa illuminazione torna Ponti e c'è uno scambio lo stesso di Carteggi perché Ponti va a Rotterman vede il museo Boimans appena terminato nel 35 e porta una serie di perfezionamenti proprio per quanto riguarda l'illuminazione con il quale ragiona sui quali ragiona e propone ad anti vediamo qui tutta una serie lo stesso di scambi e poi la realizzazione della zona dell'impluvio e anche qui l'intervento di anti che segue un po' tutti questi questi passaggi che durano anche più tempo e che si trovano anche a degli ostacoli si trovano dei momenti di raccordo di quali è importante anche per mantenere quello che anti scusate che Ponti vuole portare avanti quindi anche un abbinamento di colori una forma museo coerente è importante anche qui si rileva in filigrana i contatti che anti aveva assimilato e aveva potuto anche diciamo un po' aumentare e conoscere attraverso Ponti dell'architettura contemporanea soprattutto con le sue visite all'ambiente milanese e qui i colori che ritornano è una serie di corrispondenze colori che come abbiamo letto prima sono colori riferiti all'antico il giallo dello stucco lucido il rosso pompeiano e quel nero grafite colori che richiamano l'antichità le antiche pitture e gli antichi affreschi e qui tutta la parte invece che è relativa agli apprestamenti moderni del museo andiamo veloce per portare invece l'attenzione su quanto il patrimonio in questo momento è anche punto di riferimento per quelli che sono altre operazioni come sono state citate prima e vediamo rapidamente per la sala delle anatomie i riferimenti sono a opere del museo lo vediamo qui ma anche manifestazioni temporanee alla fiera di Padova ma il museo si ferma l'allestimento sarà nel dopoguerra a pronti sollecita non è se il museo non è completo mettilo a posto un po' però è un gioiello architettonico del palazzo e Antti un po' se ne scusa nel dopoguerra nella sua memoria e si giustifica dicendo lo scrivente ha forse avuto il torto di non provvedere alla sua sistemazione all'apposito museo del Liviano parla delle collezioni che hanno state prima elencate negli anni 40-43 ma gli impegni del retorato la guerra e mi sia concesso di dirlo anche un certo ritegno data la carica allora ricoperta e lo impedirono il dissuasero dal farlo nella memoria appunto espone tutta una serie di necessità qualcosa viene in quegli anni approntato come alcune basi per la gipsoteca che qui vediamo con la collocazione dell'Ermes col Dioniso Bambino alcune collezioni vengono anche acquisite quindi ci sono donazioni deposite della collezione Gorga deposite da sequestri dei carabinieri nell'area di Spina che vanno a incrementare le collezioni su queste collezioni ci sono alcune tesi che mano a mano emergono e quindi anche quello che era il bisogno di Antti con questo chiudo di riordinare questo materiale nel museo che si impone come un dovere culturale come una necessità didattica solo quando sia bene ordinato e catalogato si può essere sicuro della sua buona conservazione e della possibilità di dispersione e questo è il dato fondamentale e conclude auguro e spero che questa spesa destinata ad arricchire l'università di un non insignificante museo che ne aumenterà il decoro e la fama e dotare i suoi insegnamenti di un potente mezzo didattico non appaia troppo grave per il bilancio universitario e possa quindi essere approvata e astanziata e questo era appunto l'augurio che il rettore e il direttore oramai solo dell'istituto e del museo si fece in quegli anni sappiamo che poi le vicende per l'allestimento del museo proseguirono negli anni successivi anche andando in altre direzioni ma questa è un'altra storia grazie grazie che ci ha mostrato appunto il gioiello architettonico che